grazie prendo la parola io ma la lascio rapidamente ai protagonisti dello spettacolo allora sono molto contenta sono anche un po emozionata e non è il primo incontro di retroscena ma il primo che facciamo in questa bellissima sala e lo facciamo appunto in occasione di uno spettacolo importante che non solo è lo spettacolo di apertura della stagione del teatro stabile ma è anche lo spettacolo d'esordio alla regia teatrale di nanni moretti come certamente sapete ed è l'occasione per vedere in scena incarnati da questi attori meravigliosi attrici meravigliose che mi sono intorno due testi che ma ne manca una ma forse arriverà adesso ve li presento se non ancora non li conoscete ma immagino che li conosciate tutti e due testi che nanni moretti ha unito sotto un titolo piuttosto evocativo sinistramente evocativo per certi versi diari d'amore i due testi in questione sono dialogo e fragola e panna due testi del 60 lo leggo perché sbaglio sempre qualcosa 1970 dialogo e fragola e panna del 1966 sono in scena associati in un ordine che non è quello cronologico cioè il primo testo che dialogo è un testo successivo ma l'unione tra questi due testi avremo avremo modo di vederlo spero in questo incontro l'associazione crea delle risonanze molto interessanti anche perché gli attori sono gli stessi le attrici sono le stesse quindi nel caso specifico valerio vinasco che colgo l'occasione per presentare anche se non ha bisogno di presentazioni che in scena in un punto in un'apertura di stagione in una veste non frequente ma in questo caso appunto diretto e non e non diretto aiuto e già vado in ordine alfabetico come sono nel programma di sala daria de florian che alla mia sinistra e alessia giuliani che usate mi sono mi sono dimenticata di dire che valerio è nella nel primo nel primo nella prima parte dello spettacolo è il personaggio di francesco e nella nel secondo è invece il personaggio di cesare poi se non avete ancora visto lo spettacolo come di solito accade in retroscena si parla a un pubblico che è in gran parte potenziale cioè che vedrà lo spettacolo quindi io vi dirò delle cose vi diremo delle cose e vi aiuteremo ad arrivare allo spettacolo spero con maggiore entusiasmo e maggiore curiosità quindi francesco e cesare daria invece appare solo nel secondo nella seconda commedia che frago le panna con un personaggio molto bello che è il personaggio di tosca alessia giuliani che è nella prima ps il personaggio di marta e nella seconda quello di famiglia i due attori ai miei alla mia destra sono sono sempre marito e moglie ma in due modi molto molto diversi e infine arianna pozzoli che anche lei solo nella seconda mi siete distribuite in un modo insomma anche voi classi social e arianna pozzoli è invece barbara altro personaggio notevolissimo della notevolissimo e difficilissimo cioè io dico questo perché non sono tutti personaggi credo piuttosto difficili ma voi forse avete un po più di tempo per per farli crescere mentre nel loro caso entrano in scena e hanno due belle quasi monologhi il personaggio di appunto di arianna e il personaggio di barbara allora io dopo questa lunga e inutile premessa volevo partire da una da una frase è ovviamente natalia ginsburg che nelle piccole virtù nelle piccole virtù scrive la bellezza sta parlando del suo mestiere di che cosa vuol dire scrivere e dice la bellezza poetica è un insieme di crudeltà di superbia di ironia di tenerezza carnale di fantasia e di memoria di chiarezza e di oscurità allora questa considerazione che lei fa rispetto alla scrittura mentre la leggevo ho pensato la bellezza del teatro e la bellezza della recitazione sta in tutte queste caratteristiche messe insieme allora la scrittura di natalia di ginsburg la scrittura teatrale in questo caso specifico è credo un confronto difficilissimo perché talmente precisa talmente ritmata talmente che credo che per un attore da un lato è tutto lì e dall'altro è tutto da inventare non so ho avuto un po questa sensazione ho provato a mettervi a mettermi nei vostri panni ho pensato due testi meravigliosi due testi che sono che hanno tutte queste tensioni inespresse e che passano attraverso delle parole che sono apparentemente futili ma che invece contengono questa questa tensione crescente che poi in realtà si sgonfia alla fine in questi finali un po come dire quasi aperti o comunque non sono dei finali col botto sono dei finali in cui ci si spegne con dolore in qualche modo allora ci ho detto volevo partendo da valerio se questa questa considerazione di sulla bellezza poetica ti risuona e come è risuonato per te il lavoro sulla drammaturgia di natalia ginsburg avendo tu peraltro anche già lavorato parecchio su 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 questa drammaturgia come l'avete affrontato come è stato il lavoro con quante domande ne faccio sempre 15 quindi allora intanto buonasera a tutti grazie di essere qua e la le parole di della ginsburg sull'arte sono sì risuonano perfettamente inequivocabilmente magnificamente non c'è nulla da aggiungere bisognerebbe ricordarle a memoria sempre anche perché ognuno degli elementi che compongono la bellezza artistica con la camera e comunque è sempre scatturisce sempre da dalla fatica di vivere dal dolore di vivere dalla fatica di comprendere quindi sì mi ci riconosco in pieno e possiamo dire le stesse cose precise anche dell'arte della recitazione l'arte della recitazione è molto più varia di quello che sembra ogni ogni spettacolo vuole una recitazione diversa i migliori attori sono quelli che non è che cambiano il personaggio ma che cambiano un po la loro recitazione poi si può anche cambiare personaggio qui baffi senza baffi con la remoscia senza remoscia rapido lento ma queste sono qui squiglie facili il difficile entrare nella musicalità nella musica che è fatta di parole ma fin lì tutti i registi ci arrivano ma è fatta anche di pensiero le parole sono fatte di pensiero il pensiero della ginsburg è un pensiero musicale per cui è uno dei pochi casi in cui io come attore per esempio mi sono sottoposto a una tortura che è quello di imparare perfettamente a memoria la memoria deve essere perfetta se sbagli una sillaba sembra assurdo dirlo però la verità se sbagli una sillaba facciamo due va senti che c'è qualcosa nel pensiero che stai esprimendo che non viene fuori che non entra in te che il personaggio ti è scappato da un'altra parte non accade sempre non accade con tutti gli autori mi è capitato solo con alfieri una volta fatto alfieri tanti anni fa proprio qui a torino gli ho detto ah ma se questo devo rispettarlo alla sillaba all'accento perché ti dice tutto per come l'ha scritto poi non mette di da scalì e non dice si alza si gira non dice niente nelle parole c'è tutto attenzione quando dico che nelle parole c'è tutto non vuol dire che stiamo parlando di un modo di fare il teatro che venera la parola come se ma un po sì cioè però la parola deve assomigliare al pensiero che contiene e lo contiene solo se tu sei in grado di andare a confrontarti con la musica con cui ginsburg l'ha scritta o alfieri nel caso di alfieri e non capita spesso capita solo coi grandi scrittori i grandi scrittori sono maestri di recitazione noi leggiamo pinter e beckett per esempio tradotti a volte tradotti anche molto bene ma ti rendi conto poi quando riesci più o meno a cogliere qualcosa nell'originale che questi sono maestri di recitazione cioè non puoi applicare quello che sai della recitazione a quella scrittura lì devi sentire dove ti sta portando e imparare un respiro nuovo bene natalia ginsburg anche se ha avuto un destino difficile come drammaturga all'inizio gli hanno detto che non valeva niente poveretta è veramente uno dei più grandi autori di teatro autrici adesso autrici bisogna dire non so come comunque è una scritta di teatro fantastica di livelli immensi e per un attore è fatica ma è gioia di poter entrare nel suo pensiero non è solo parola ma è parola e corpo e il corpo è pensiero ciao allora appunto rispetto alla fortuna di natalia ginsburg sempre mi fa sempre sorridere pensare che lei appunto non si riteneva non capace di scrivere per il teatro e invece appunto l'avevano anche detto gliel'aveva detto anche il samorano e lei ci è rimasta malissimo e poi tra l'altro lei racconta che il suo incontro col teatro in realtà è venuto in giovanissima età al carignano quindi altra sera venendo a vedere lo spettacolo pensavo è sempre questo teatro dove tante persone hanno incontrato il teatro hanno visto altri attori insomma è un teatro che ha una storia molto bella quindi recitare al carignano vedere natalia ginsburg al carignano insomma è un'emozione non da poco entrerei un po nel merito del questi personaggi che ho solo nominato che voi forse non ancora alcuni di voi non hanno ancora visto in scena chiedendo ad alessia per esempio come è stato lavorare su due personaggi che appunto sono due mogli due mogli diversamente infelici perché sono per motivi diversi due mogli che non stanno dentro il loro matrimonio questi questo questi diari d'amore come dicevo prima è un titolo un po sinistro perché sono ovviamente come forse si può intuire due 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 pies che parlano di di sgregazioni di di legami che si stanno rompendo però con è proprio questo questo momento della della frattura in particolare nel primo il primo dramma è di fatto una confessione che non arriva mai o che insomma che tarda ad arrivare in realtà arriva ma mentre il secondo personaggio è un personaggio che potremmo ovviamente non è non è vero quello che sto dicendo però nell'associazione creata da moretti il secondo personaggio per certi versi potrebbe essere la stessa donna molti anni dopo che in cui questo matrimonio è andato avanti infelicemente tu che percorso hai fatto senti come due due zone diverse o il percorso in qualche modo ha un'unità per te buonasera allora l'approccio al lavoro è stato uguale per entrambi i personaggi nel senso che facendo un po riferimento a quello che diceva prima valerio è un po affidarsi a questi testi no seguire proprio il flusso di queste parole che in qualche modo se tu riesci a fare silenzio dentro di te senza cominciare a tirare fuori congetture su cosa vorresti fare come vorresti far muovere questi personaggi mettere la testa al servizio dell'azione se riesci a fare un po di silenzio questi questo testo in realtà ti parla proprio quindi ti ritrovi a un certo punto che se ti fidi qualcosa succede quindi l'approccio per entrambi i personaggi è stato questo quello di ascoltare ascoltare le parole quello che succedeva un po dentro no e chiaramente sono due donne molto diverse che in qualche modo poi mi risuonano entrambe e dunque per quanto riguarda parto da flaminia che è il personaggio della seconda ps che è fragole e panna è una donna che probabilmente ha questa lucida disperazione e questo è un suggerimento che mi ha dato nanni apparentemente serena questo è un po la punto di partenza da cui io sono partita no e una donna che probabilmente ha un po accettato questa condizione di solitudine estrema di questa capacità di soffocare un dolore probabilmente molto molto forte e l'ha fatto diventare un dolore letargico che dorme che proprio è nascosto da qualche parte e non è detto che poi un dolore così forte non sia urlante e non sia lì in agguato ad aspettare di poter esprimersi e quindi troviamo questa donna in questa casa isolata in campagna in questa quindi estrema solitudine non solo interna ma anche logistica e che passa le sue giornate ad aspettare un marito che a cui piace stare in giro per lavoro e non solo e quindi lei come se avesse pacificamente apparentemente accettato questa attesa si consola con un pianoforte con la lettura di qualche libro eccetera finché arriva inaspettatamente un elemento esterno in questa quotidianità a cui lei ormai si è abituata con cui ha fatto proprio pace forse che è un elemento esterno che è una giovanissima donna molto molto giovane che irrompe in questa in questo piattume portando un'estrema vitalità e una richiesta anche di risoluzione con grande coraggio si para davanti entra in questa casa prende proprio lo spazio e chiede di essere sostenuta consolata aiutata e in qualche modo si mette davanti la sua storia e questa questa cosa credo che non sia uno spoileramento no perché è la giovane amante di del marito di cui lei conosce l'esistenza ne ha sentito parlare è abituata ad aspettare il marito a casa che gli racconterà le avventure con le sue donne quindi è come se fosse ci fosse un patto non siamo più marito e moglie è un matrimonio diciamo un po particolare e io ho immaginato che lei forse per compiacere questo marito per risultare un po un'eroina tragica che è in grado di sopportare l'insopportabile silentemente sta lì in attesa e ascolta anche amerevolmente forse le sue confessioni fino a che poi questa non arriva che chiaramente quando se la vede davanti e vede questa forza vitale e le racconta tutta la storia che ha avuto e che ha con questo marito latitante questo amante anche latitante chiaramente come se questo letargo questo dolore letargico di cui parlavo prima improvvisamente si svegliasse aprisse gli occhi e dicesse vabbè ma qui c'è proprio qualcosa che è come se vedesse tutta la sua vita buttata quello che forse era le lacrime che ha versato cercando di conquistare un contatto fisico con questo marito un affetto che invece gli è stato negato e quindi chiaramente lo vede forse come da anni non lo vedeva più e credo che non lo sceglierà più poi come finisce questo è anche un po' quindi questo è il diciamo il viaggio che ho fatto interno un po' e questa cosa qua non l'ho tanto non l'abbiamo capita parlandone leggendo il testo facendo l'analisi del testo il famoso tavolino queste cose che di solito no si fanno i primi giorni di lavoro dove un regista antepone no le sue premesse dice voglio fare questo per questo motivo e l'abbiamo un po' ognuno ha fatto un po' un viaggio scoprendo delle cose attraverso questo testo che ti parla sembra una scrittura apparentemente semplice e invece ha una complessità emotiva fortissima grazie allora sì poi volevo tornare facciamo un po' un secondo giro e Marta la facciamo al secondo giro quindi ci occupiamo adesso principalmente di Fragole e Panna che appunto è il testo dove tutti loro sono in scena tra l'altro in uno spazio scenico comprende praticamente un divano diviso in due ed è uno spazio scenico in cui loro ovviamente abitano a differenza del primo della prima pièce dove invece loro sono come dire in qualche modo legati a una situazione fisica piuttosto complessa cioè non possono sostanzialmente alzarsi da questo letto comunque molto poco allora tornando su Fragole e Panna come anticipato D'Aria de Florian che è una presenza spero di non dire una cosa che non... D'Aria de Florian è un'attrice che ha una storia in un teatro un po' diverso forse da quello che normalmente si consuma sui palcoscenici del Carignano quindi è una presenza che a me ovviamente fa molto piacere perché mi sembra un incontro felice e un approdo felice ma non perché semplicemente un incontro tra drammaturgie, regie, attori che hanno provenienze, età diverse, credo che questa sia anche una delle ricchezze di questo spettacolo che è una compagnia di eterogenea quindi D'Aria è portatrice di una storia teatrale diversa, interessantissima, importantissima che è qui con questo personaggio che nel mondo ginsburgiano è molto presente il personaggio della serva, il personaggio si definisce io sono una serva lo ripete più e più volte ma a di là di questa autodefinizione di serva però le figure delle donne di servizio, delle donne, chiamate la mia donna, le donne quelle figure di secondo piano che però nel mondo ginsburgiano sono molto presenti sono delle osservatrici, sono delle figure che appunto guardano, disturbano, collaborano non collaborano, non sono mai veramente in sintonia con le proprie padrone purtroppo uso questo termine orrendo ma è questo il termine che normalmente si usava da corpo appunto al personaggio della serva di Tosca che è faccio di nuovo riferimento alle parole di ginsburg ma mi sembra ovvio farlo lei dice i personaggi devono essere i comici e miserevoli insieme allora il personaggio di Tosca forse in questo senso è esemplare e Daria è bravissima a fare di questo personaggio a cogliere gli aspetti comici perché ci sono delle chiavi comiche, ce ne sono in tutto lo spettacolo, in tutti i testi forse il personaggio di Tosca è quello più esplicitamente deputato ad avere dei momenti comici però nello stesso tempo è un personaggio miserevole per usare di nuovo le parole di ginsburg come ti sei trovata dentro un teatro di regia, studiamo questo termine e come hai affrontato una drammaturgia come quella di ginsburg che è un personaggio così, come dire, a rischio macchietta che invece non mi sembra quello che hai fatto invece non è una macchietta, è un personaggio dolorosissimo più miserevole che comico, ecco beh comincio col dire che da quando abbiamo cominciato ad aprire il lavoro al pubblico da quel momento mi sono arrivati diversi messaggi di persone che l'hanno visto e che mi conoscono chiaramente che riportavano sempre la stessa frase non mi trovo mi è stato detto da una persona a voce che il giorno dopo aver conosciuto Tosca dopo aver fatto un po' di cose nella giornata si è proprio, ha sentito il bisogno di dire questa parola non mi trovo ed è stato come primo inizio di dialogo con il pubblico un bellissimo inizio per me nel senso che tutto sommato e provo a rispondere non ho sentito nessuna differenza rispetto al tipo di esperienza di restituzione di parole dette sulla scena provate nel mio lavoro come autrice insieme ad Antonio Tagliarini negli ultimi anni ma anche con Lucia Calamaro quindi una scrittura che pesca nel quotidiano senza però ricalcare il quotidiano senza rincorrerlo ma raggiungendolo da un altrove da quell'altrove che è la scrittura e non mi trovo fa parte di quel mondo lì perché vuol dire tutto come si diceva prima ma rimane anche misterioso cosa vuol dire? infatti glielo chiedono tutti ogni volta che io nello spettacolo dico non mi trovo la risposta di tutti è quella non si trova è come dire capiscono e non capiscono e questa serva che appunto dall'inizio dalle prime parole che dice non si trova è una specie di di termometro potrei dire di una temperatura appunto raggelata claustrofobica bla 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 se potrebbero dire molte cose delle altre figure che lei non è che capisce o forse capisce anche ma soprattutto sente e questa è una bellissima dimensione da affrontare performativamente cioè avere a che fare è vero quello che dice Valerio con il pensiero ma è anche un pensiero del corpo per cui dici cose semplici hai un'esperienza semplice ti rapporti con il fatto di dire frasi come eh i giovani sbagliano poi è chiaro uno ha letto le piccole virtù e c'è tutto il discorso no? sui giovani sulla gioventù cioè c'è una complessità bellissima dietro ma è una frase anche molto banale che non so nemmeno se condivido eh però a mano a mano che faccio toscala capisco sempre di più perché magari sbagliano perché ma perché non escono con l'ombrello anch'io non uscivo con l'ombrello poi da un certo punto in avanti nella vita ho cominciato a portarmelo dietro cosa vorrà dire cioè ho smesso di essere giovane meno male e ecco racconto questo per dire da una parte il rapporto con la Ginzburg bellissimo io quando ho letto i testi non li ho capiti così bene li ho lievemente sottovalutati ehm quando abbiamo cominciato a farli ho detto oh mio Dio che bello veramente bello veramente bellissimo dialogare monologare ascoltare gli altri noi ascoltiamo sempre tutto ascoltiamo tutto dialogo io poi sono una che sta anche molto in cucina entro e esco ma io dalla cucina sento tutto cioè non mi perdo una parola né come Tosca né come Daria e per chiudere per non essere troppo lunga perché poi Tosca è lunga eh quando comincio a parlare non finisce più la relazione con con una regia è stata come dire è stato un bisogno cioè è una questione di pieni e di vuoti e quindi dopo aver dato molto negli ultimi anni dopo aver avuto questo rapporto del dentro e del fuori la scena quindi scrivere stare in scena fare anche la regia questa dimensione apparentemente apparentemente sottolineo passiva è una dimensione indispensabile per ricaricare e per spostarsi per non per non ripetersi no per e anche per per rinnovare gli incontri è stato molto bello è molto bello ce lo diciamo quasi tutti i giorni con mondi diversi chiudo dicendo che una delle cose più belle che ha fatto un anno secondo me è il cast non che non ne abbia fatte altre perché non ha cercato un mondo omologo è andato un po' cinematograficamente osservando le figure e fidandosi del rapporto figura attore ma non ha pensato oddio però quella fa un teatro diverso no quella anche una regista allora è meglio di sì è meglio di no allora devo prendere qualcuno simile a lui a lei siamo molto diversi ma fin dal primo giorno c'è stata non solo una grande curiosità tra di noi ma anche delle forme di regia interna non fatte da parole ma da osservare il modo di lavorare con curiosità uno dell'altro e questo credo che via via abbia anche un po' tranquillizzato Moretti da questo suo ruolo nuovo anche perché c'era qualcosa che succedeva anche internamente e non solo interno esterno insomma fine grazie allora last but not least come dicevo prima Arianna Pozzoli ha il compito di incarnare i giovani che sbagliano no scherzo è un personaggio quello di Barbara anche qui ci sono alcune ricorrenze del mondo ginsburgiano queste giovani con dei figli che sono un po' dei fardelli che non si capisce dove li mettono questi figli che sono perdute che sono che sono è bellissima questa chiave che lei riesce a trovare di figure di donne un po' svagate ma precisi in alcune cose che sembrano un po' folli però poi hanno dei momenti di estrema lucidità ecco il personaggio di Barbara è un personaggio credo molto difficile da questo punto di vista riuscire a centrarlo nel senso che le figure della coppia forse sono più riferibili a a qualcosa che conosciamo più da vicino come diceva peraltro Alessia prima nel caso del personaggio di Barbara è un personaggio un po' spostato ed è anche un personaggio su cui secondo me si può concentrare una piccola riflessione tra il tempo di cui è stato scritto sono state scritte queste opere insomma alla fine degli anni 60 anni 70 quindi un certo tipo di idea di gioventù di quegli anni e la capacità che secondo me Arianna ha avuto di rendere il personaggio attuale cioè di fare questo vale per tutto lo spettacolo no? nel senso che è interessante la questione della distanza temporale sono testi che appartengono a quegli anni ma sono che in questa messa in scena da un lato sembrano appartenere a quegli anni ma in realtà sono anche molto attuali c'è una straordinaria capacità di parlarci ecco il personaggio di Barbara secondo me in questo senso è molto importante proprio perché il personaggio della giovane è quella che i sei giovani segnano le epoche no? ecco e poi lascio la parola a te non so bene chiedendoti che cosa forse chiedendoti come hai fatto e come l'hai l'hai trovato quel personaggio perché hai dato dei segni molto forti al personaggio gestuali posturali di movimenti sulla scena a me è sembrato un lavoro millimetrico quasi non so se lo sia però io l'ho guardato e ho detto questa cosa qui ha trovato una chiave che cosa avevi in testa come avete lavorato con Anni Moretti come come l'hai visto quando l'hai letto? allora durante le prove ho iniziato a leggere Le piccole virtù che è un libro che consiglio a chi non l'ha letto a me l'hanno consigliato sia Daria che Valerio e anche Domenico Scarpa e leggendo Le piccole virtù a un certo punto arriva è una raccolta di saggi di una rubrica di varie rubriche che Natalia Ginzburg teneva su varie riviste culturali e giornali e c'è un un breve saggio dove lei intitolato appunto Le piccole virtù dove lei differenzia parla dell'educazione dei figli di come dovrebbe una madre dovrebbe educare i propri figli o un genitore in generale e lei differenzia tra le piccole virtù e le grandi virtù e dice non bisogna insegnare ai propri figli le piccole virtù che sono per esempio la virtù del risparmio o la virtù della prudenza perché altrimenti i figli verranno su cinici e pessimisti ma bisogna insegnargli le grandi virtù che sono quelle del coraggio dello sprezzo del denaro e elenca tutta una serie di virtù che sembrano essere come lei dice sono delle virtù che vengono considerate come naturali e quindi noi non le insegniamo ai nostri figli perché diamo per scontato che loro le abbiano e invece ci impegniamo tanto a passargli quelle che sono le piccole virtù quando ho letto questo saggio sono rimasta un po' folgorata perché ho pensato che Barbara definita da Domenico Scarpa citando Natalia Ginzburg una ragazza randagia Barbara è fatta di grandi virtù e non conosce ancora le piccole virtù e quindi è incosciente e quindi è anche una neonata perché ha bisogno di cose semplici ha bisogno di cibo ha bisogno che i suoi abiti si asciughino ha bisogno di essere toccata ha bisogno di essere ascoltata e quindi in questo senso non penso che Barbara sia una ragazza borderline perché è vero sono dei personaggi questi di queste ragazze che sembrano essere un po' al limite penso che sicuramente sia mi sono fatta un po' quest'idea che Barbara è un po' anche dentro a quel testo una maschera quindi che si è una persona però al contempo è anche una forza che entra dentro questa casa e modifica completamente lo stato delle cose ed è fatta di schegge non è in questo senso per me è stato ed è tuttora io non credo di averlo centrato il personaggio e spero di non centrarlo perché io ho molta paura di annoiarmi e quindi spero di non centrarlo ogni volta mi dico stasera lo facciamo così cerchiamo delle cose cioè almeno nella mia testa penso adesso cerco delle cose perché dobbiamo fare tante repliche io non sono abituata a farne così tante dobbiamo fare veramente tante e quindi no e quindi lei per me è anche un grande sollievo perché anche banalmente per la mia esperienza di vita ho dovuto cercare di non essere incosciente e quindi è divertente e liberatorio dare spazio alla parte incosciente che c'è dentro di me che è anche molto forte e che probabilmente appunto il teatro mi dà l'opportunità perché è un luogo è un luogo protetto perché il luogo è comunque finzione per quanto noi giochiamo a farlo sul serio però e quindi per me è un po' una liberazione in questo senso sì ho detto cose così belle che no no dai facciamo ancora un giro veloce no allora dicevo prima di questa associazione di questa presenza reiterata della coppia appunto due coppie dai no non essere insofferente subito no c'è c'è una no 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 c'è un gesto che mi ha molto colpito nel in dialogo dialogo appunto è veramente un dialogo tra loro due con una serva che che non c'è di cui si sente soltanto la voce e cioè dice di amnesia Francesco la questione delle mani in realtà io penso al fatto che mentre Francesco dice delle cose abbastanza brutte a a Marta ogni tanto la tocca allora la situazione scenica come dicevo prima abbastanza complessa credo soprattutto per voi perché è un letto loro sono dentro un letto e per non so quanto duri 40 minuti più o meno meno comunque sono costretti in una posizione dove potete muovermi veramente molto poco quindi anche i gesti che fate ovviamente acquistano una risonanza molto forte no quindi perché non avendo lo spazio scenico a disposizione allora anche lo spettatore si concentra su su quei segni allora a me uno dei segni che ha colpito di più è stato questo in questo dialogo che si fa sempre più complesso questo tuo toccare Marta come dire vabbè ci stiamo dicendo le cose atroci però in realtà tu sei come le mie mani sei che le mie mani cioè l'ho trovato una una cosa molto interessante di come dire di andare a trovare un altro livello non voglio parlare di sottotesti eccetera ma di di come la il teatro poi ti dice ancora qualcos'altro cioè come gli attori ti sanno dire anche altre cose oltre a quelle che il testo ti dice e che ti suggerisce cioè c'è già moltissimo c'è già moltissima profondità in Natalia Ginzburg in quel gesto io ho visto un ulteriore piano ma anche una cosa quasi un gesto di rassicurazione tra di voi non so magari è proprio una lettura totalmente sbagliata però mi ha molto colpito sì non è che ci ho tanto pensato a dire la verità non lo so dialogo è veramente un capolavoro è un gioiello di scrittura perfetto perfetto quindi il gioco col personaggio diventa un gioco molto facile tutto sommato prendi veramente il suo punto di vista il suo modo di parlare il suo modo di guardare diventa facile diventa però nel caso nostro più che altro nel caso mio l'idea di Nanni Moretti è andata un po' contro al testo cioè questo testo sarebbe la storia di una crisi coniugale in atto in una coppia di sposi abbastanza giovani cioè dalla lettura si evince comunque che sono due trentenni più o meno hanno dei problemi con una bambina piccola appena nata degli altri bambini insomma si vede che e quindi nella malinconia della scrittura della Ginzburg pur essendo comico questo questo dialogo indubbiamente però c'è un aspetto malinconico di partenza perché si vede comunque che questa coppia andrà a sbattere prima o poi contro qualcosa di difficile da superare quindi noi guardiamo con malinconia il loro il loro futuro l'idea di Moretti che mi aveva molto complessato all'inizio glielo ho detto fin dal primo giorno dico Nanni ma sei sicuro guarda che faccio cioè ormai no 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 poi non dà nessuna spiegazione questo no 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 è tutto quello che mi ha detto in un mese e mezzo più o meno e me lo sono fatto andare bene no 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 e quindi però mi sono detto anzi no gli ho detto quindi stiamo raccontando la storia di una coppia che il cui con malinconia guarderemo anche il loro passato no? cioè vediamo come non solo andranno a sbattere in un futuro che ormai ha poco senso ma anche sono già andati a sbattere da molto tempo se questo è il punto d'arrivo dopo 20 anni di matrimonio e lui qua non mi ha risposto però mi ha fatto capire che avevo detto una cosa probabilmente giusta ma cosa vuol dire in tutto ciò che è venuto naturale una volta che prendi quel punto di vista lì cioè che siamo una coppia che magari stanno insieme da 20 anni e fischia che hanno avuto una figlia in zona Cesarini e che andranno a sbattere un pochino ma anche nel loro futuro che ci sono dei gesti meccanici che c'è una quotidianità mi fanno molta tenerezza questi gesti perché avvengono lo stesso anche mentre si rendono conto che il loro rapporto è un rapporto che si sta sfasciando però il gesto c'è lo stesso e la mano conosce meglio quello che bisogna fare di loro stessi delle loro parole anche alla fine 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 quando proprio insomma il pubblico si rende conto che ci vorrebbe un altro atto per capire come andrà a finire ma tutte le ipotesi sono aperte e comunque si sono detti cose irreparabili direi ugualmente c'è un rapporto tattile fra di loro che a me è venuto istintivo cioè se non me lo dicevi lo sapevano le mani ma non lo sapevo io e tra l'altro anche Cesare Flaminia Cesare tocca Flaminia e forse sono un attore sono gli attori tocconi no ma c'è questa sì sì è questa cosa tocca anche te tocca anche me in una scena non vorrei dire però tu prima dicevi una volta sola tu prima dicevi che è anche un po' un modo per rassicurare l'altro però io per esempio lo sento veramente perché lo percepisco che è anche un po' una richiesta di stare una richiesta di non di di stare c'è un po' quella tentativa sì tentativa di di dire tutto come sempre cioè lei prima ha detto che tu in questo gesto le facevi pensare a una rassicurazione nei miei confronti io da dentro sento anche che tu toccandomi mi stai chiedendo di stare a una minaccia come dire non è una rassicurazione no no mi stai chiedendo non mi lasciare capito stai qui stiamo insieme va tutto bene un po' questa cosa come se non badare le cose che dico ma che tanto beh in realtà le cose sì vabbè non spoileriamo come si dice orrendamente allora no specifico soltanto per chi non avesse letto che adesso io ho dato mi sono concentrata su questo gesto non so forse perché mi ha colpito particolarmente insieme ad altri che forse non mi sono sfuggiti ma certamente la una delle caratteristiche di questa scrittura è la pressoché totale assenza di lascalie quindi credo che la proprio immagina come dicevo prima immaginare il personaggio di Barbara o anche lo stesso personaggio di Tosca senza essere appunto cadere nel primo cliché che ti viene in mente no non fornendo lei null'altro che le parole che sono quelle del dialogo no quindi c'è tutto un mondo da costruire veramente e questo gesto a me è rimasto particolarmente impresso perché in questa relazione che sta maturando un distacco forte c'è questo questa questa aggiunta potremmo dire che è proprio il il lavoro degli attori il lavoro del teatro quello che il teatro aggiunge alla alla lettura dei testi perché noi quando leggiamo dei testi possiamo immaginare delle cose quando gli attori agiscono le rendono ne rendono una delle versioni possibili e voi ne avete reso ovviamente di questa relazione ne avete avete dato una forma a questa relazione nel caso di di Alessia poi quello che mi ha sorpreso mi ha colpito nel nel rapporto tra i due personaggi adesso ci sarebbe anche da fare un discorso tra Francesco Cesare un po' come dicevo prima rispetto le due i due personaggi come parlano dentro di voi nel senso come si si relazionano dentro di voi nel caso di di Marta il personaggio è un personaggio che sembra qual è l'aggettivo che usa sono svagata usa l'aggettivo che svampita svampita ecco è molto interessante questo questo aggettivo perché è che ho dimenticato ma insomma che è quello che dà almeno a me ha dato una chiave di lettura del personaggio e di questo strano modo di essere dentro e fuori questa situazione che è una situazione drammatica ma che in realtà sta in una sorta di sospensione no? credo che sia difficilissimo anche qui trovare quella giusta misura allora qui diciamo non si può spoilerare però quello che tu hai già detto che c'è qualcosa che lei dovrà dire questa rivelazione quindi Marta vive in realtà un doppio piano che è quello di questa cosa che assolutamente urgenza proprio a livello di tempo di dire a Francesco e invece il piano del risveglio è della quotidianità e dello scambio su argomenti più o meno ripetuti mille mille volte questo stare su un doppio piano all'inizio io chiaramente ho detto vabbè viene dalla tentazione di descriverla questa cosa di sto da un'altra parte ho un altro pensiero però intanto Nanni invece aveva proprio chiesto che questa cosa non si leggesse più di tanto anzi proprio però è chiaramente come se quindi mi sono messa in una condizione di distrazione cioè di essere un po' distratta e questo probabilmente poi ha permesso che un po' queste poi sempre come dire fidandosi del testo che poi tutto avviene è come una specie di balletto che succede su questo letto per cui quando lui si muove in un modo lei si muove in un altro cercano una specie di stare in questo letto dove non c'è non si sta comodi ma si finge di starci non so parlano molto i nostri corpi oltre che le nostre parole come dicevi tu e l'essere svampiti è e lei ne è cosciente forse è una condizione molto lontana da me prima io ho detto che questi personaggi mi risuonano questo essere svampita no ed è una cosa che però che mi piace tantissimo perché ha anche un po' a che fare con la testa silente che io non ho mai avuto e in questo viaggio che abbiamo fatto che stiamo facendo ho imparato a fare silenzio ho imparato sto imparando a fare silenzio e vedo che nella vita questa cosa mi porta una calma che è un po' nuova anche nei rapporti con i miei figli dicono ma strano mamma non sei più che sto lì a fagocitare ansie cosa fa loro sono a Roma io sono qua uno dice eh sì ho fatto un po' silenzio perché Nanni ha fatto silenzio quindi ho detto vabbè se fa silenzio lui la Ginsburg non fa silenzio ti parla ascoltiamo la Ginsburg ascoltiamo molto gli altri quindi ho fatto proprio un po' silenzio e quindi essere svampita ho detto che cos'è invece io sono come dire mi ci sono un po' ritrovata forse poi sono personaggi più teneri io dico sempre a lui siamo un po' due cetrioli in questa usciamo dalla fine di questo dialogo che è un po' come se fossimo stati in una bolla un po' un viaggio un po' quindi è ancora tutto è molto emozionante sì ho pochissimi minuti però volevo fare ancora lo devi dare ad aria forse volevo chiedere appunto nella tua posizione di attrice drammaturga autrice insomma di artista che sta in molte posizioni ecco che cosa ti ha particolarmente colpito della scrittura di Natalia Ginzburg tutti quanti mi sembra adesso non mi ricordo chi l'ha detto che è una scoperta anche a me devo dire ha fatto questo effetto di una sorta di scoperta e riscoperta come se io adesso avessi voglia di leggere solo Natalia Ginzburg è una specie di malattia che ti prende ecco volevo chiederti dal tuo punto di vista di persona che scrive anche dei testi e che lavora su delle drammaturgie come come l'hai l'hai sentita sono contenta di avere poco tempo così dico solo una cosa perché chiaramente me ne vengono in mente più di una però ne ho anche un po' parlato credo non so se con Arianna con qualcuno non è un pensiero l'ho anche vomitato alla famiglia Ginzburg che è venuta l'altra sera a vederci perché è una cosa che ha a che fare non tanto con il lavoro ma proprio con la posizione della donna oggi anche con le sane e indispensabili rivendicazioni di genere di posizione di posto nel mondo di parità cioè tutto questo mondo che mi abita che che io ho vissuto troppo presto cioè ero troppo piccola per il femminismo degli anni settanta e adesso sono un po' troppo avanti per il femminismo di oggi quindi sono sempre scomoda non mi trovo grazie non mi trovo e invece ho trovato la Ginzburg perché Natalia mi viene da chiamarla così tra me e me Natalia è una donna che ammette il suo bisogno di uomini ammette la sua dipendenza da certe caratteristiche maschili l'ammette così tanto quasi da aprire un barco dentro di me rispetto a una resistenza che negli ultimi anni sento ed è meraviglioso è fondamentale perché lo fa una donna che in realtà basta guardarla basta vederla al Parlamento italiano basta leggere i suoi saggi era di una forza di una indipendenza basta immaginarla negli uffici e inaudi con tutti uomini meravigliosi e difficili e quindi lei non aveva bisogno di dimostrare nulla poteva dimostrare il suo bisogno la sua dipendenza la sua fragilità e su di me per come sto adesso sia privatamente che pubblicamente cioè come porsi cosa dire come rispondere a delle questioni è stato un incontro veramente delicato e fortissimo ecco me l'hai suggerita un po' tu questa domanda rispetto appunto al personaggio femminile in parte Arianna l'ha già l'ha già detto però appunto in una prospettiva questi personaggi femminili ci pongono delle questioni ce ne pongono tante parlo da lettrice da spettatrice volevo sapere il punto di vista invece invece non è necessariamente un invece il punto di vista di di Arianna rispetto non solo al personaggio proprio rispetto a quanto emerge di questo mondo femminile da questi da queste commedie ma non so allora molto dolore e solitudine di queste donne i suoi testi questi due testi io ho letto questi due testi sono incredibili perché non sono in nessun modo appunto ideologici e non credo che lei lo sia mai stata in quanto scrittrice non ho letto tantissimo però di quello che ho letto mi sembra di aver capito così e non essendo ideologici sono poetici no sono pieni sono ricchi proprio per questo Barbara ma come anche gli altri personaggi sono situati negli anni 60 negli anni 70 però hanno tante chiavi di lettura anche rispetto ad oggi soprattutto nell'utilizzo del discorso diretto che lei fa soprattutto in Barbara cioè Barbara ancora non ho capito perché ma lei dice lui mi ha detto e riporta le parole lei mi ha detto e riporta le parole è una caratteristica proprio molto molto sua e ogni volta cambia un po' nel mio pensiero nel mio modo di lavorare non è chi a un certo punto lei Barbara dirà ha detto è mia moglie posso batterla quando voglio perché è mia moglie non è chiaro come l'ha detto il marito cioè almeno per me non è chiaro ed è interessante che ancora non sia chiaro cioè non è chiaro se lui l'ha fatto come un uomo nell'immaginario più generico dico una cosa generica siciliana è mia moglie plateale non è chiaro se invece l'ha fatto l'ha detto in un momento invece di confusione perché è giovane perché è timido perché è in imbarazzo non è chiaro però ho tanto dolore di queste donne che io non invidio io non le invidio anzi alle volte avrei anche voglia di averle accanto di parlare con loro perché penso che Barbara no Barbara lo cerca poi Barbara questo personaggio giovane va a cercare inconsapevolmente proprio perché quasi tutto quello che fa Barbara è inconsapevole cerca una sorellanza oggi si dice così cerca una sorellanza con questa donna ma non è non è consapevole neanche lei almeno poi non parlo per il suo personaggio però dal rapporto e allora è interessante perché non è ideologico perché non è il racconto di due donne che scoprono la sorellanza che sicuramente a livello di vita è bella è una cosa bella ma probabilmente come una cosa scritta da raccontare è più interessante due che lo cercano e non lo trovano allora loro devono tornare in teatro cioè devono andare in teatro perché hanno la recita questa sera ovviamente io li ringrazio tanto perché credo sia stato un incontro per me è stato molto interessante molto emozionante e invito chi non l'avesse fatto ad andare ovviamente a vederli in scena nonché a leggere credo che il dialogo tra questo e la scena ci dia dia veramente una una prospettiva molto interessante forse non lo direi di tutte le drammaturgie però di questa mi sento di dirlo e quindi vi ringrazio molto ringrazio Valerio Alessia Daria e Arianna grazie grazie